Ma va Ma va Ma va Ma va Ma va Vabbè ci sta dai Buonasera ragazzi Aspetta Natte sei bloccato come mai Porco Come son bloccato Sei bloccato Aspetta Natte Madonna Ma son bloccato con la faccia da ri O da altre Aspetta aspetta Ma perchè è bloccato Aspetta 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 Forse è stato il ride Non lo so Porco Giulia Siamo dei grandi Vai grande Sono tornato Ma che cosa Ma andate tutti a fare Voi e Twitch Ecco Dio santo Il potere che si ribella Poi tra l'altro io furbo Ci avevo il potere attaccare Una roba spavento Vabbè 94 mesi per preparare Stai Tutti fighi Iniziamo Bloccato con la faccia Esatto Ragazzi Bene Buonasera a tutti Siamo qui con Danielino Nel podcast Più irriverente di tutti Dove al posto di quel dito indice Ci dovrebbe essere un dito medio Del quale Che io mi son pentito Di non aver fatto mettere Quindi Probabilmente il futuro Tornerà Dito medio Allora Considerate che L'idea nativa Era un vaffanculo Che puntava Verso SDP Poi dopo Ci siamo fatti come al solito Mille problemi E quindi siamo stati già puniti Dalla sorte del cazzo Frizzato subito È già immediato Hai capito Nella prossima puntata Che poi vedremo qual è Sicuramente se frizzerà il santone Sicuro Sicuro Al 100% Quindi ragazzi Vabbè Intanto Avremo sicuramente delle novità Anche perché è la prima puntata Se ne sono finite le novità Non vanno a merda grandi Da paura Ma Io direi che Su questa fantastica notizia Ragazzi Possiamo far partire Aspetta 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 Diciamo due parole Poi ti passo la parola Per quello che sta per dire Ah vuoi già dire due parole? Dio cane E che cazzo? Ma cominciate adesso Fammi dire le parole Vai 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 Dire le parole Perché a Danielino Dovete sapere che gli piace dire le parole Lui Come si chiama Aspetta Io Sai qual è la mia sfiga Poi ti faccio dire le parole La mia sfiga qual è Che io so le cose Ma non ho studiato Quindi Mi dimentico Come si chiamavano Mi dimentico Come si chiamavano Quelli Quelli che stavano a parlare Nell'antica Grecia No? Come cazzo Ma che cazzo Non so che c'è in testa No è un Danielino è maestro di retorica Non la retorica No? La retorica Era la retorica Quelli che sapevano parlare L'arte della comunicazione No? L'arte della comunicazione Quindi mo' Facciamo parlare Danielino Non è l'arte della comunicazione Siccome il Santone Che io chiamerò Tra Matteo, Santone, Barba Insomma svarierò Durante il corso delle puntate Stava per dire Lanciamo la sigla micidiale Ma prima di lanciarla Ricordiamo Mio caro Santone Che dovete andare a fare il culo Sul cazzo del pianeta Che hanno una sigla Più bella della nostra Esattamente ragazzi Sigla tra l'altro Con la mia partecipazione Creata da Daniele Maria Zingaretti Durante un momento di colite La domenica mattina Esatto Esatto Sempre al cesso le idee migliori Sempre al cesso le idee migliori E ragazzi Vedrete Guardate Ha fatto una roba Adesso direi che possiamo solo mandare la sigla La fisica quantistica La mitologia greca La matematica La degustazione di vini rossi scadenti La storia dell'uovo L'ingegneria Il latte adatta di 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 Fantastico No non c'è più Daniele Ma Non è possibile Aspetta Ma che no Non è vero dai Questa l'hai fatta apposta Ma non ho fatto un cazzo Che merda ragazzi Oh No ma qui va tutta puttana E poi tra l'altro Non c'era l'audio A un certo punto Si è mutato l'audio della sigla Ma perché cazzo Non so Ma perché non ti si vede più Non ti si vede più Aspetta Riblocco e riblocco la telecamera Ma che cazzo ne so Ragazzi spaventoso Ci abbiamo degli strumenti Veramente avanti Madonna Il Santone C'ha 96 mila euro di impianto E non me vedo io Ma è una cosa incredibile Ma sì ma questa è colpa di Aspetta ma perché non ti si vede Ma non lo so Non ha senso Ma non ha senso Cioè tu dovresti essere qua Aspetta un attimo Copia Copia link dell'ospite Dio boh ragazzi Veramente spaventoso Ma questo è il potere Questo è il potere Questo è il potere Il potere Il potere Allora Proprietà ragazzi Ne incolliamo Ok Sti cazzi Adesso è spenta No questa è il super Adesso è riaccesa Non ti piglia Non ti vuoi pigliare Aspetta che cambio delle camera Aggiungi ospite Automaticamente Aggiungi Automaticamente gli ospiti No a monte Pia manco da questo Inserimento automatico Degli ospiti in là Maggia la puttana Ma perché? Prova a uscire Da Da sta sessione E rientrare proprio In quella di Di Twitch Allora aspetta Prova a chiudere Lo streaming congiunto E lo riavro Esatto esatto Questo ragazzi Mi ha messo problemi Dello streaming congiunto Micidiale Allora A questo punto Direi di nuovo Sigla Perché Che cazzo Adesso si Tutto proprio Definitivamente State attenti La fisica quantistica La mitologia greca La matematica La degustazione di vini rossi scadenti La storia dell'uomo L'ingegneria Il latte adatta digeribilità L'odontoiatria Le scienze più tecniche La chimica farmaceutica Il cibo scaduto La filosofia La scuola materna La criminologia Il patriarcato L'ingegneria nucleare Il reflusso La giurisprudenza Il servilismo dell'uomo L'impedosessuale L'architettura La biologia La neuropsichiatria La veterinaria Che virus da spianto Vigiliare, bro Servi del potere Il podcast Bene ragazzi E bentornati A Servi del potere Soprattutto Bentornati Dopo che ci sia stato Il nulla cosmico E abbiamo avuto La sigla micidiale Va bene ragazzi Allora Intanto Come avete potuto vedere Siamo Davvero Overpower Ok Siamo veramente Overpower Con dei mezzi Del potere Giustamente E A questo punto Ci tengo Anzi ci teniamo No E farò una domanda A Daniele Perché ci sta Che vi introduca lui A questa cosa Perché è nato Servi del potere Oltre per creare Questo sputtanamento Enorme Praticamente Che Doveva Doveva succedere Cioè Quindi Oltre sputtanarci Così tanto Nei primi 20 minuti Perché è nato Servi del potere Allora Diciamo che tutto quello che è successo prima di adesso è stato soltanto una lunga intro che noi vi abbiamo voluto movimentare in un modo diverso dal solito Esattamente Allora Perché è nato Servi del potere? Servi del potere è nato perché fondamentalmente io e il santone ogni tanto parliamo e ci raccontiamo quanto ci caghiamo il costa di sempre le stesse cose E allora abbiamo detto lo sai che c'è? Facciamo una bella cosa diamo una sterzata e ritagliamo c'è un angoletto dove facciamo i nostri non ci rompiamo e non ci tripoliamo i testicoli gonfi con le sigarette elettroniche ma dopo capirete anche che parleremo anche di quello poi ci arriviamo Quindi ci siamo detti facciamo partire un podcast dove parliamo di altro ovviamente di altro con una certa misura e con un certo stile di altissima ignoranza e vi dico subito una cosa se avete letto il cartello iniziale iniziale prima che partisse quella follia chiamata configurazione Esatto Prima che partisse quella Ovviamente ragazzi era tutto preparato eh Ma certo Ma certo Ma secondo voi noi dopo 14 anni dei video famo stesse Ma quando mai Che tra l'altro è un programma che non ha mai un problema ma tutto bene Tra l'altro quando fai un aggiornamento poi funziona tutto Figurare Certo sì sì basta fare un aggiornamento che il computer vada solo ragazzi E quindi insomma è arrivato Servi del Potere il podcast che ha tutti i criteri per non essere un podcast come voi pensate sia veramente un podcast Perché oltre a parlare di tante cose che in ogni puntata ma adesso vedremo quando quali con che frequenza faremo queste puntate dove sbaglieremo le configurazioni cinque numeri da soli Esatto Parleremo a volte anche del tema ma Matteo io ti chiederei prima di andare avanti visto che è nato questo podcast di questa di cui questa è la puntata pilota Perché abbiamo deciso di chiamarlo Servi del Potere Che c'entra Servi del Potere Servi del Potere c'entra perché innanzitutto siamo schiavi del potere come Cioè in realtà gli hater I nostri decennali hater ci hanno dato Ci hanno dato il là per la cosa no Esattamente quando mi diedero il là di quanto chiedere a video a me Quando ancora non chiedevo un soldo E dice la gente crede che io chiedo sti soldi Boh li chiedo veramente E praticamente sono gli hater che hanno fatto il prezzo del santone dello swap Cioè loro che mi danno del prestolato hanno creato il prezzo come hanno creato Servi del Potere Perché noi ovviamente ragazzi siamo dediti a vendere il colucco E perché non continuare a vendere il colucco con un podcast avete capito Soprattutto come ha detto Daniele perché Perché onestamente lo svapo ha bello che rotto il cozzai E quindi bisogna un attimino giostrarsela in questo mondo dove il potere la fa da padrone ragazzi Perché qua senza il potere si va da nessuna parte fondamentalmente no E io aggiungo che un bel giorno sapete che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di accettare non è anche una proposta che molti pensano dietro Cioè sia quale chissà che costaio de danaro Volete fare per caso delle use getta fermi tutti a crollare il pianeta Tutti quanti a siringai noio e a gonfiali de dasnors E tutti quanti hanno cominciato Siete dei servi del potere Schiavi del dio denaro prezzolati Che fondamentalmente potrebbe anche essere vero Ma non era vero in quel caso No esattissimo Non avevo visto io vedo il ritardo Perfetto io non ce l'ho la use getta Vabbè esistono anche altre E insomma tra l'altro un miliardo di use getta con pezzo pari a 3,50 euro Quindi siamo diventati proprio ricchi A bestia E quindi ci siamo guardati in faccia da lontano E abbiamo detto porca puttana Servi del potere da tutti i punti di vista Assolutamente Liquidi prezzolati video a pagamento Cose allucinati Siamo ricchi O stai Servi del potere perfetto Sì sì ragazzi Perché qua ormai sia io che Danielino Possiamo permetterci di non lavorare Oltre alla pensione Perché siamo Soprattutto grazie al patrimonio incredibile Che abbiamo raccolto vendendo le nostre use getta Perché quello ci ha proprio svoltato Nel senso Io non ho fatto la piscina Perché Perché altrimenti Mi passava a casa di lusso Avete capito Loro hanno detto No la piscina la faccio E quindi ragazzi Questo è quanto Cioè Non c'è più Servo del potere di noi Ragazzi Io considerate che con le use getta Ho comprato casa a Forlì Non lo sa nessuno Però voglio dire Scusa Perché lui ogni tanto Se la vasca in Romagna Fa lo stealth in Romagna Ci sta Vedi capito Lo stai Comunque Stai suoi Allora No Quello che volevo dire io È che gli insulti Nei nostri confronti Sono accettati Devono essere ovviamente A tono con la situazione Con stile Ok Quindi Cari moderatori Non esagerate Con i ban Con le cose Ovviamente Sul mio canale È sempre disponibile La riscossione Dell'insulto A pagamento Coi Santini E ne potete avere due Al prezzo di uno Tra l'altro Esatto Doppio E considerate che Il barba Siete abituati a sentirvelo Insultare In romagnolo Da me arriva proprio L'ignoranza De quella proprio Dei quartiere Quindi state attenti A quello che dite Se riscattate Sono veramente Dei stai vostri E vedi Stefano Stefano ha già riscattato L'offesa Perché sei un merito Renoglio Nonché come Vascur Zainte Remmal In Romagna È abbastanza importante Io non so Io ti posso L'unica cosa Che ti posso dire Ste È che l'ultima volta Che l'hai preso Un colus È diventato ricco Che ti devo dire Più di questo Esattamente Esattamente Perché se avete la mamma Non è colpa nostra Che cosa è Scusa Comunque Diamo un momento De serietà Che durerà Massimo 30 secondi In realtà C'è anche altro Da dire Certo In realtà Oltre a esserci Non proprio Rotti il costaio Dello svapo Però è giusto Intramezzare Ogni tanto Perché se no Uno si rompe veramente Esatto E allora Abbiamo detto Visto che tutti rompono I noi E qua chiedo a te Ah Ah no Non potete esprimere Pareri politici Siete due zucche vuote Non potete parlare Di questo Di quello E allora A maggior ragione Abbiamo detto Ma possibile che Uno che parla Di sigarette elettroniche Non può parlare Di un po' Di altro Perché può parlare Solo di quello Allora Forniamo un intrattenimento Più vasto Che gira A 360 gradi Esatto Su altri argomenti Dove Dove potrete conoscere Anche meglio Il settore dello svapo Dall'inno 77 Cioè poi A quelli che Ci vogliono bene Gli faremo vedere Anche Insomma Nel senso Considerate che Poi lì il 4k Non so se basterà Poi vedremo Insomma Lì ci vuole un 16k Esatto Non compresso Dio cane Micidiale E io andrei Però Vabbè I moderatori Li abbiamo avvisiati Perché ovviamente Ragazzi Io abbiamo anche La scaletta micidiale Perché ci teniamo A fare le cose Per bene Come Come avete già visto Dall'inizio Esattamente Esatto Chi era Arrigoni Che faceva le cose Per bene No come era C'era quella pubblicità È Locatelli Che fa le cose per bene È Locatelli Che fa le cose per bene Che costate Che costate Che costate poi Arrigoni Non so Mi ricordo Ma che Ma che costate Arrigoni No aspetta Tu cerca su internet Arrigoni Arrigoni è quello che vende Alla panichina Di Bertinoro O la roba Dei muratori Ma che costate Arrigoni Arrigoni Abbiamo detto Di scoprire Qual è la richiesta Che veramente C'ha rotti Secondo voi A me E a Danielino77 Qual è la richiesta In assoluto O il tipo Che poi non è una richiesta È un tipo di richiesta Che poi buccia Cioè qual è la cosa Che costate Più di tutti Esatto Vediamo Vediamo se c'è qualcuno Cosa svappate Esatto Consigli sui liquidi Qual è la miglior pod Farai il nuovo liquido La migliore svapo È meglio la kiwi O è meglio La M1 Basta Avete veramente Grattugiato Basta Veramente Se ne vuoi più È meglio Quello che Stai Volete voi Che fate Che mostro È meglio la kiwi Ragazzi È meglio la kiwi Il giorno che lo imparerete Il giorno che lo svapo Imparerà Che la kiwi Meglio delle sigarette elettroniche Ragazzi Il giorno Il settore avrà una svolta Epocale Clamorosa Addirittura Il governo Dirà No ma non vi tassiamo più Ma c'è Non va più Ma ci faccio ridere Ho anticipato La presenza Di questa Magnifico podcast Qualche live fa E giustamente Qualcuno Durante una diretta Mi ha chiesto Ma come al solito Ci sarà o non ci sarà Allora io volevo pubblicamente Rispondere Dicendo che Uno Non ci sarà Due Nel caso in cui La rossa Se volesse presentare Per essere partecipe In questo podcast Al netto dei potenti mezzi Che avete visto Esattamente Sono quello che sono Cioè Qua La rossa È sempre benvenuta E basta A nessun altro Esatto ragazzi Ovviamente Ragazzi A casa nostra Da Forlì a Roma Quando si dice Da Nierf Si intende La rossa De livello Esatto Roba Roba crocchante Non vi presentate Con le buste De fave Non venite Non venite Con le vostre morose Avete capito No No Noi le vostre morose Non le vogliamo Vogliamo andare A Ighif Che si possa chiamare Ighif Veramente Noi I boi Che stanno con voi Che poveracce Loro Quando si sono messe con voi Erano belle Poi a furia Di avere uno Che svappava Che guardava i video Sai che I noio Sai che I noio Sono diventate così Le avete fatto diventare così voi Quelle povere donne Se si mollano con voi Tornano belle domani Avete capito Cioè raga Avete reso le vostre donne Delle buste de piscio Porca puttana Roma Si dice Busta de fave O buste de piscio È l'unico modo Per Per Come dire Configurare Cioè Lasciate Stare queste donne Cioè Basta L'avete obnubilate Con la rottura Dello svapo Ah stasera Rigenero il goon Ah ma non dobbiamo A cena fuori No perché il goon Ma blu Perché non so Se sono meglio 5 spire Su punta 3 o 4 spire In mezzo Su punta 2.75 E dai Che cazzo È così ragazzi È così dai Bisogna un attimo Che ci evolviamo Avete capito Dobbiamo Siamo arrivati a un punto Di evoluzione Cioè E questa cosa qui Non si può Proprio fare diverso Ok Proprio Assolutamente Quindi ragazzi Io direi che Se volete fare anche Delle domande Ogni tanto Le potete pure fare Con moderazione Esatto Ma tra l'altro Vedi Montgomery scrive Una live patriarcale Allora Montgomery Se non eri stato attento Te lo ricorda Il sottoscritto Durante la sigla Non so se hai sentito La parola Il padre Allora Fermi Il padre Esatto Santone rimanda la sigla Santone rimanda la sigla La fisica quantistica La mitologia greca La matematica La degustazione di vini rossi scadenti La storia dell'uomo L'ingegneria Il latte ad alta digeribilità L'odontoiatria Le scienze più tecniche La chimica farmaceutica Il cibo scaduto La filosofia La scuola materna La criminologia L'antropologia Il patriarcato La geografia L'ingegneria nucleare Il reflusso La giurisprudenza È colpa degli influencer L'economia aziendale L'onghi incarnite La scala dal potere Il servilismo Dell'uomo L'impedosessuale La ridettura La biologia E peli nel naso La neuropsichiatria La veterinaria Ti è buono che Fils da schianto Bici di Ame Servi del potere Il podcast Buo ragazzi Quindi C'è poco da fare Il patriarcato C'era il patriarcato Non è che Non è che noi siamo Pro patriarcato Noi siamo inclusivi Siamo gli più inclusivi Di tutti L'abbiamo solo dichiarato Nel caso c'è anche quello Al di là di quello che Eh Eh sì No no Nel caso c'è anche quello E tra l'altro Noi ci dissociamo Da tutto quello Che accadrà in questo podcast Nella maniera più Esatto Nella maniera più assoluta Noi ci dissociamo Da tutto Non so come mettere Alla giù In un'altra maniera Ragazzi È esattamente così Diciamo anche un'altra cosa Perché adesso Bisogna anche un po' Introdurre Mio caro Santone Quanto tutto ciò Andrà avanti Per quanto tempo Perché non so Se te sei reso conto Ma siamo stati 20 minuti A fare delle prove In live E altri 30 Non d'incosta Perché fondamentalmente Siamo degli artisti Esattamente Esattamente Cioè non so se avete mai visto uno Io te lo dico Cioè la retorica Noi siamo maestri Della retorica Ragazzi Cioè noi nell'antica Grecia Avremmo fatto di quegli Stratul Che s'nove Uomini Che mica si scherzava Perché sono i romani Che poi gli ha messo le donne Però comunque Oltre a aver messo le donne Comunque anche loro Erano inclusivi parecchio Assolutamente Cioè ragazzi Noi siamo i più inclusivi Di tutti A noi ci sta bene Sta bene tutto Ci sta bene Cioè vedete ragazzi Che siamo in grado Di creare intrattenimento Senza di impostare Ma chi è capace Cioè non abbiamo condiviso Un video Cioè nessuno è capace Cioè sto duo qua È in grado di parlare Delle ore del nulla Cosmico Esatto Esattamente Comunque Tra l'altro Non mi ricordo Se era No era in Thailandia In Thailandia Comunque è premiata Guida Michelin Quel post Ma comunque Santo qua La questione è che Ovviamente Questa è una puntata zero Dove ci riscaldiamo Ovviamente Però diciamo Diciamo che Allora Le puntate Fondamentalmente Lo dichiariamo Avverranno in questo modo A parte questa puntata zero Allora La prima puntata Dove Ovviamente I primi 20 minuti Non funzioneranno Lo stesso Sarà il prossimo 9 maggio Perché sarà Nella pagina di Daniele Quindi anche lui Dopo avrà i problemi Che ho avuto Ma non immaginerete Neanche quanti Quindi noi poi Ci vedremo Perché è curioso Anzi diffondete il verbo Il prossimo Giovedì Il 9 maggio E poi Dal 9 maggio In poi Fermo restando Che seguite sempre Le storie Instagram Per sapere Quando saranno le puntate Dopo il 9 maggio Ce ne sarà Una ogni 15 giorni Il giovedì Perché una Ogni 15 giorni Ragazzi Cioè voi potreste Pensare Sessione Aurea Fibonacci Cabala No semplicemente Perché ci vado E farne una settimana E ci rompiamo Esatto È troppo Veramente troppo Allora concentriamo Tutto in un paio De puntate al mese Le prime due Le spariamo Tattà Poi Una ogni due settimane Tra l'altro Mio buon barba Di cosa parleremo Lo anticipiamo Nella prossima puntata Allora Di cibo e ristoranti Ragazzi E tra l'altro La prossima puntata Parleremo di cibo e ristoranti Però Siccome Sulla pagina facebook Del Santone Qualche fenomeno Ha scritto Ah siete veramente Molto Autoreferenziati Cioè Parlate sempre di voi Assolutamente sì I servi del potere Parlano loro Esatto Parlano dei loro stessi Delle cose brutte Delle cose belle E vedrete che Nelle prossime puntate Per esempio Subito quella successiva O dopo ancora Avremo Sesso Parleremo Della nostra vita Sessuale Parleremo Delle nostre esperienze Nella puntata Sui ristoranti Le cose peggiori Che abbiamo mangiato Dove Le cose assurde Parleremo Ovviamente Parliamo di noi Perché Che cazzo Non si può sempre Parlare dell'altro Ognuno parla Per si stesso È ovvio Come quando faceva Le recensioni Dello svapo Che tutte le volte Bisognava dire Secondo il mio Modesto parere È così Basta Imo Imo Lo dico io Imo per fo Imo Imo Com'è Imo Il romano È Imo Il romano È per me Se no per Attila Com'era Imo Spaventone L'hai visto Attila Flagello di Dio Spaventone Va bene Comunque Diciamo che Parleremo anche Di cose Di tematiche Un po' più serie Ovviamente sempre Con un sottofondo Da servi del potere Cioè se Dovessimo addentrare In robe Un po' più Non voglio di pesanti Ma diciamo pure Drammatiche Che possono essere L'attualità Possono essere I grandi temi sociali Del stagio Tra l'altro C'è un velo De santonismo E de danielinismo C'è deve essere sempre De sottofondo Ma c'è ma Comunque raga Questo è un programma Satirico Quindi ve lo dovete Pigliare Come programma Satirico È satira Sugli argomenti Sugli spettatori Su noi stessi C'è proprio Chi più ne ha Più ne metta Quindi Questo è L'antifona Raga Questo è l'antifona Di quello che vi aspetterà Più avanti Avete capito Cioè È proprio Esattamente così Ma adesso Santone C'è un momento topico Che io ti lascio Perché ti meriti Di presentarlo C'è una cosa Che ci accompagnerà In tutte queste dirette Una Era la sigla Mostruosa Che abbiamo visto Ma c'è un'altra cosa Secondo me Che ci accompagnerà Come dicono Le persone che hanno studiato Un leitmotiv Durante il corso Delle live Prego Esattamente Esattamente ragazzi E adesso Lo vedrete Buonasera a tutti Io sono il potere Interverrò una sola volta Per ogni puntata Di questo podcast Per farvi una domanda Dovrete rispondermi Perché voi siete Servi del potere Ora basta Con le vostre stronzate E rispondete Santone Danielino Per quale cifra In euro Chiudereste I vostri canali social Cambiando vita E andando a fare I camerieri In un ristorante Pakistano Dove il gestore Giuseppe l'infame Ed il vostro Supervisore Ahmed La Caronia Vi obbligheranno A pulire i cessi Per i prossimi Dieci anni Ciao schifosi Ci vediamo Alla prossima puntata Domanda abbastanza Semplice Nel senso Per quanti soldi Intanto Chi sarà Sto potere Cioè questa E' la vera domanda Nel senso Allora Per la curiosità Di vedere il potere Ci vogliono Gli abbonati Ragazzi Perché senza La pila Ok Non c'è Non ve lo vendiamo Il cammello Avete capito Non ve lo vendiamo Il cammello Un attimo Che Ah Daniele Non ti si sentiva Micidiale Vabbè Daniele Ma aveva detto Daniele Ma aveva detto Daniele Ma aveva detto Che perché Perché il potere È nascosto Ok Perché c'è Un gol Da raggiungere Per sapere Chi sarà il potere E il gol Da raggiungere Per sapere Chi sarà il potere Ok Sono Io la voglio Sparare grossa Daniele Io la voglio Sparare Veramente grossa Io voglio Almeno 500 Abbonati Almeno 500 Abbonati Per Dire Chi è Il potere Quindi Quando raggiungeremo La soglia I 500 Abbonati Il primo Nel primo Dei due canali O da me O da Daniele Vi sveleremo Chi è il potere Nel frattempo Voi potete Provare a indovinare Che sia il potere Potete anche Memare sul potere Non solo Ma Non pensiate Che Il potere Non ha una faccia E quella è una censura A prendere il culo Esiste una faccia Esiste un potere Che è quello poi Di cui noi siamo servi E questo potere Noi lo Decensureremo Allora Io voglio volare Un po' più basso Perché ovviamente Bisogna anche Rimanere coi piedi Per terra Nel momento Ascolta Nel momento In cui Il Santone Raggiunge 500 Abbonamenti O Danielino Ne raggiunge 485 Attenzione Allora Sveleremo La faccia Del potere Esatto ragazzi Quindi Usate il Prime Abbonatevi A sti cacchio Di canali Ok Usate il Prime O poi Per uno Usate il Prime Allora fate così Mese il Prime a me Mese il Prime a Daniele E poi Mese i soldi a me Mese i soldi a Daniele È tutto molto facile Perfetto Cioè Così è tutto Perfettamente bilanciato Come diceva Thanos Avete capito Come tutto dovrebbe essere Comunque Veniamo alla domanda Stavi rispondendo Eh bravo Veniamo a sta domanda Allora Per quanti soldi Per quanti soldi Io ragazzi Per stare in mezzo A una situazione del genere Ragazzi Io dico Serenamente Serenamente Cos'era un anno? Dieci anni? Allora In realtà Sì Devi chiudere Tutti i canali social E per i prossimi Dieci anni Dovrai lavorare In un ristorante Pakistano Dove ovviamente Servi Pulisci i cessi Dalla merda Insurti Da chiunque Una vita De sacrificio Dura Però la cifra La fai te Cento milioni Di euro Porca Madoka Sì cazzo Sì ma dieci anni Sì ma dieci anni Della tua vita In mezzo ai pakistani Cioè non tanto Nel ristorante Pakistano Che magari cucina Come i pakistani Che si vedono Su Instagram Ho capito Però poi quando esci Semi ardario Cazzo Eh beh certo Scusa Dieci anni Di galera Dio santo Con quello che Mi infama 100 milioni Io come al solito Sono sempre più Terra terra Però io per 100 milioni Lo faccio Ah no Ma io per 10 milioni Lo faccio lo stesso Guardate io 10 milioni Chiudo tutti i canali social Chiudo tutto A canno Svapo Sigarette elettroniche Danielino Mi hai fatto smettere De fumare Bravo Non m'ero un peter Costai 10 milioni D'euro Sull'unghia ovviamente Sull'unghia E senza tasse Non mi devo pagare Ma che un euro De tasse E vado pure A pulicessi Nel ristorante Pakistano Con Ahmed La carogna Tra l'altro Che non è da soffro Che ti infama Di continuo Ti blast Te fa tutte le robe Sì 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 Assolutamente Senti Mio caro Matteo Abbiamo iniziato Questa puntata a zero Nel peggiore dei modi Io direi di concluderla Con un argomento Che è uno tra i peggiori Perché io Ogni tanto Ci confrontiamo E chiacchieriamo E c'erò del colù Che se famo Un colù Così tutto il giorno A monta video A fa questo A fa quello A fare robe Sì sì E YouTube Ci blasta seriamente Come tutti gli altri social E poi Arriva Il Adratir Con tutto il rispetto Ovviamente Non ce l'ho con nessuno È soltanto Un modo di dire Che lancia il pongo Fa divertire i cazzini Con le tene Appiccica lo slime Armuro Fa 20 milioni Di visual E poi C'è TikTok E i reel Su Instagram Con le zinne De fori Tutto quanto Insomma Che succede? La domanda te la faccio Rispondi te Poi rispondo io Certo Secondo te In questo mondo Dei social Dove veramente Adesso fai una scureggia Con una tonalità diversa E diventi famoso Esatto C'era gente Che aveva In qualche modo Delle capacità E i social Non hanno fatto altro Che tirarle fuori Oppure vediamo Soltanto Della gente Ma tanto ormai I social Fanno diventare Famoso Chiunque Allora Io prima di rispondere Ci tengo a ringraziare Dore 9 Per il Prime Vanna Billy Per il Prime Per sei mesi Davide Mann Per il Prime Per 42 Poi Ce ne sono degli altri Il pilota con la barba Per aver regalato Un abbonamento Simo Ultra Perché ha rinnovato L'abbonamento Livello 1 Per un mese Favio Gara 93 Per il Prime Per sei mesi E Mi Cinghial Che mi manda A prendere un gelato Ha fatto il livello 1 Per 36 mesi Grazie ragazzi Grazie a tutti ragazzi Veramente Sull'onda di questa cosa Ti dico che io credo Che l'1% L'1% I social Abbiano fatto venire avanti Della gente brava E effettivamente Loro sono bravi Il resto È immondizia Che semplicemente Adesso Qual è il contenuto Che va Se uno analizza Un attimo la cosa Il contenuto Che va È il trash Devi sempre essere peggio Perché fondamentalmente Chi ti segue Può dire Ma vedi che Alla fine La mia vita Non è tanto di madre Perché guarda Come la sua Fondamentalmente È questo il discorso Io sono convinto Di questa cosa Nella maniera Più assoluta E i social Tirano avanti La madre Fondamentalmente Quindi stiamo andando Nel degrado Più Più totale Cioè siamo In piena Devolution Proprio Quindi tu dici Che c'è una piccola Percentuale De persone Che ne hanno Donde E l'altra Li so Dei test Stupide Che non fanno Altro che sfruttare I social Ma so Dei Necifer Esattamente Fondamentalmente Sì Fondamentalmente Sì Ma che poi Non è che Perché Non è che Li sfruttano Hai capito Loro hanno avuto Il voluco Che l'algoritmo Un giorno Gli ha fatto L'occhiolino Hai capito Perché sfruttare Si poteva fare Anni a dietro Ormai Quelli che vanno Un giorno L'algoritmo Gli ha fatto L'occhiolino Poi han capito Che facendo Ancora più schifo La gente Clicca E basta Hai capito Guarda io ti dico Che analizzando Siccome ogni tanto Apro tiktok Perché voglio vedere Quanto stupido E degradante È il mondo Ho notato Diversi ambiti Che poi sono sempre I stessi Allora ci stanno Delle ragazze E dei ragazzi Ma giovani Con milioni di follower Che non sanno parlare Non capiscono Un costato della vita Perché non l'hanno Neanche ancora iniziato A vivere Non fanno altro Che fa balletti Muovere la bocca Con audio De film O cose del genere E quello secondo me È una generazione Di persone perdenti Quando c'è stato Il tema Delle paf E tutti stavano Attenzionati Non facevano altro Che fa video Tutti uguali Dove dicevano Tutte le stesse cose Perché Quelli non parlano Quello che va Lo dicono Aprono internet Leggono E sembra che sanno le cose Ma non sanno Non hanno mai potuto vive Non avete mai vissuto Non vi siete mai fatti Manco la prima Magari siete vergini pure E va bene Per carità Per carità Non c'è niente di male Però nel senso Questo per dire Che uno la vita Non l'ha vissuta Ci sta Poi ci stanno Quelli che cucinano Viviamo in un cazzo De mondo Tutti cuochi Ma mortacci vostra Ma prima Ando cazzo stavate Tutti Tutti a fa la carbonara O avete rotto Il costacchio Con la carbonara Basta Non la sapete fa Lasciate sta Ogni Snorri a Roma S'affaccia dalla finestra Che te mangi oggi L'ha fatto uno Tutti Tutti cucinano Tutti con stai De padelle Fino a ieri Di sapere Non fa mancare La pasta col burro Oggi tutti cuochi E ci stanno i cuochi Poi ci stanno anche I fenomeni da baraccone Che sono quelli Che quella è una categoria Più incredibile Allora C'è una che parla male Come se avesse Dei problemi Nel cervello E diventa La professoressa De corsivo Inizia Fa tre sordi Famo vedere il culo Su Allifan Sparita Poi C'è sta Un altro Il dottor Bavaro Ma voi Adesso ditemi una cosa Ma mi fate capire Ciao dottor Bavaro Dottor Bavaro Se mai guarderai Mi fai capire una cosa Ma tu Ma che fai Che fai Cioè Qual è la tua attitudine Sei bravo a fare cosa Io non lo capisco Vieni me la spiegà Per carità C'hai un grande seguito Ma che fai Cioè praticamente Mi stai dicendo Che ridicolizzarsi Attira le persone Quindi il trash Che ha nominato il santone Va bene Eh fondamentalmente Potrebbe essere Se no non capisco Che poi per carità Oddio ve la cresca Avete fatto i soldi Bravi eh Bravissimi Perché poi queste Non vogliono essere Cioè so So domande Non vogliono essere No 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 Cioè No no io lo chiedo veramente Perché non lo so Qual è l'abilità No Qual è l'abilità Oh spiegatemelo Perché le metto in pratica Pur io E faccio un pozzo De sordi Pur io Esatto Cioè se mi dite Come si fa Io lo faccio Beh non è che posso Fa proprio tutto Però Non tutto Qualcosa posso fa Capito Allora Sì 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 Questi sono i vari ambiti I vari ambiti Ognuno ha il suo peso Sulla bilancia Tra l'altro Eh certo Assolutamente E non è un'illazione Dottor Bauer Non ce l'ho Non è riferito a quello No È una cosa In generale A livello Spirituale Mettiamola così Anche perché Tu pesi 690 Se tu pesi 300 kg Io so arto 30 cm Quindi non è che Te posso più aprire Da lui Ognuno C'è le sue Esatto Esatto Io dico Veramente Qual è la vostra Abilità E insomma Per tirare Le retini Del ragionamento Secondo me Ha ragione Il santone Cioè Secondo me Questi social Hanno tirato fuori Il peggio Dell'umanità E da che mondo È mondo Il peggio Attira Sì assolutamente Ma perché È proprio Il meccanismo Mentale Nascosto Che non lo ammette Neanche la persona Che lo sta guardando Hai capito Per me È vero Però dici Beh alla fine Dai Io ho le bollette Da pagare Le robe La vita La vita fa cagare Almeno guardo La vita De uno Che è più Sfigato De me E dico Beh Lui sta peggio Hai capito Oppure guardo La vita De uno Semplicemente Che me fa ride Perché c'ho Già tanti problemi Esatto Ad estamma In pelagana Nei drammi Sociali Nelle rotture De qui No io guardo Me faccio Due risate E c'è posta Eh Per carità di Dio La pillola Come la pillola Ti vedo sganciato Oggi Cos'è Italiano medio La pillola di Maccio Capatone E guardate Che quel film C'ha una sua Grande realtà Dietro Sì Sì Assolutamente C'è L'italiano è medio Sul serio Per carità di Dio Tra l'altro Ecco Giustamente Prima c'erano i reality O i programmi Dove la gente Si corteggiava Ma E alla fine Nicoletta Guarda che Lo specchio Della televisione Che adesso È diventata I social È esattamente Quello Ma perché Scusate Vogliamo dire Che su tiktok O su instagram O su youtube C'è De E questo Non è stato Ampiamente Superato Dai reality Che vediamo In televisione C'è una differenza Però dal mio punto di vista La differenza È che almeno Indipendentemente Da quello che si vede Davanti alla televisione Cioè Dal format Che ti stanno proponendo C'è da dire Che almeno dietro Ci sono dei professionisti Che lavorano Io capito Sono d'accordo Non c'è manco Il professionista Che lavora dietro È quello il problema Sono d'accordo Infatti Quanto meno Un programma stupido Tipo Temptation Island Che è veramente Per gente Con un quotiente Intellettivo Un chicco dei caffè Però dietro C'è lo staff C'è stanno i cameraman E gli autori E le telecamere E la rete mediaset E quello che stanno Se volete voi Almeno la gente lavora C'è dietro un social Ma ci stanno Bravo Non ci stanno Lo sai Cioè Non ci stanno Lo sai Io parlo ragazzi Di chi fa il video Sto parlando Di proprio Della roba bassa Perché in realtà C'è tutta la parte Di professionisti Che lavora sui social Che cioè Ne conosco A bizzeffe È imballato di gente Che veramente Ci lavora È brava È lì da dieci anni Quindici anni Cioè Ci sono Adesso stiamo parlando Proprio delle qui squiglie Quelli che Se fanno il video Col cellulare Balletto E dici Ma come Sai che ha fatto Questa Sono in radio Quelli Sono professionisti Che lo sarebbero stati A prescindere Da tiktok Quelli sono Dei professionisti Punto Sì Poi Adesso Voglio spezzare Una lancia In favore Ci pensavo L'altro giorno No Allora Da qualche settimana Mi sono impuntato E mi sono Guardate Un po' De storie Instagram Un po' De roba Di fedez Sai perché Perché ho detto Ma Mi spieghi Io non ci credo Che questo Fa i miardi Perché canta E poi ho capito Che non è così E allora Ho fatto Un esperimento Sociale Io Ogni tanto Vedo fedez Che fa le storie Instagram Poi partecipa Va ospite Poi va De là Poi va De qua E voi lo sapete Che è posto Antipatico Potete dire Tutto quello Che volete Ma la presenza Di spirito L'avere La risposta Pronta Il sapere Articolare In mille situazioni Un argomento Se uno è stupido Non lo sa fare No no Ma assolutamente Cioè Quando voi guardate Un podcast Mo lasciate sta noi Che siamo gente Ignorante Ignorante nel senso Che La buttiamo Sulla satira E va bene Però dietro La L'essere capaci Almeno ad esprimersi A confrontarsi Guardate che non è Una cosa scontata E secondo me Tu pensa Ma te Dimmi te La maggior parte Di quelli che Insultano gli altri Ecco Qualcuno scrive Fedez È una multinazionale Vivente Bene Allora Gli aspetti da valutare Sono due Uno Quelli che insultano No è perché Sono vidiosi Perché tutti quanti Vorrebbero avere Quella casa Quelle macchine Quei soldi Tutti 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 Secondo te Quanti di quelli Che insultano Messi in quelle situazioni Sarebbero in grado Di articolare Una frase De senso compiuto No di quelli che insultano Nessuno Nessuno Sicuramente Di quelli che insultano Nessuno Cioè no dai Metti lo 0,5% Perché ci sta che Ci sta che Anche Sgarbi Ha insultato Fedez Sgarbi Nenco Assolutamente no Vabbè ma lì poi So pure insulti Da hype Volendo Ma certamente Ma è chiaro Però allo 0,5% Non dico Una persona Ogni 200 Magari Ce la fa Però poi Portano in alto E gridano Al miracolo Della bravura O dell'essere capaci Persone Sui social Che invece Non sanno Fa niente Zero Sì sì Assolutamente Ma tu Prendi uno Desti fenomeni Da baraccone De tiktok Lo prendi Lo metti In un contesto Dove devi solo parlare Ma secondo te Capace A rispondere a tre domande Ma anche le tipe Guarda con tutto il rispetto Anche Tante Nonostante Ce ne siano alcune Che sanno fare Quello che sanno fare Meglio di altre Ma molte Instagram model Cioè se tu le fai parlare Io non so cosa viene fuori Capito Ma infatti Allora Ritorniamo a bomba A quello che dicevamo All'inizio Cioè Allora è vero Che i social Hanno portato in alto Persone Che altrimenti Sarebbero Dei disgraziati Che ancora cercano lavoro E invece Hanno anche Per una minima parte Tirato fuori Delle capacità De persone Che senza i social Non le avrebbero potute esprimere Esatto C'è infatti Assolutamente Però allora Dopo lì c'è anche Da dividere Qual era Dei social Perché se parliamo Dell'ultima era È molto diverso Da se parliamo Dell'inizio Di quando è partito Tutto Insomma Io La mia risposta Era riferita A post TikTok Insomma Ecco Esatto Di quello parliamo Giusto È chiaro Perché il punto Zero Adesso si può considerare TikTok Prima era un'altra Cosa Ok Ancora Finché non era arrivato TikTok Ma poi sai che cos'è Che ha bustato Incredibilmente Tutto questo Questa opulenza Se vogliamo Per quanto riguarda I content creator La pandemia Ah certo Assolutamente È vero La pandemia Ha fatto capire alla gente Siccome stava sempre Col telefono in mano Che c'era un lavoro Dietro al telefono Cosa che prima Non avevano capito Perché erano impegnati A fare altro E non solo Prima c'era Non c'era il lavoro Dietro al telefono Perché quel lavoro Era su quel vecchio Broadcast Yourself Che era YouTube Che adesso non lo è più Esatto Che non è più Broadcast Yourself Esatto Ma dietro non c'era il telefono Dietro c'era quella Che noi oggi facciamo Anzi Matteo Molto più di me A livello di infrastruttura Tecnologica C'è un mestiere Una capacità L'inclinazione Verso l'utilizzo Della tecnologia Ore a configurare Montaggirare Le idee La tematica Tutto il mondo Ma infatti È per quello Che io ho diviso Da Tik Tok Cioè post Tik Tok Prima di Tik Tok Perché per dire Una volta Una telecamera Dovevi sapere usare I soldi Per comprare Un minimo di attrezzature Li dovevi avere Adesso Basta il cellulare E col cellulare Oh per carità Io pure ho iniziato Col cellulare Perché io sono Iniziato col cellulare Però Poi È arrivato È arrivata Un'infrastruttura A vera e propria Per quanto riguarda Il mio campo E non sono mai Arrivato ai milioni Di iscritti Nel senso Perché Comunque Siamo in una nicchia Noi Poi è arrivato Indipendentemente Dalla nicchia È arrivata Le mazzate Destra Sinistra Di guadilasci Dobbano ovunque Da dopo il covid E lì è stato Il delirio Perché Noi adesso In questi anni Stiamo vedendo Quello che è accaduto Con l'apocalypse Nel 2017 2018 Ragazzi Adesso abbiamo Gli effetti Di quella roba lì Ti dico un'altra cosa Visto che abbiamo Iniziato Esordendo Con La risposta A chi ci dice Che siamo pieni Di noi stessi E parliamo solo di noi E allora Giriamo questa tematica Di cui abbiamo Probabilmente discusso Su di noi Te lo chiedo prima io a te Poi rispondo io Per te invece Com'è stato? Non capivi in cui stai Prima E i social Ti hanno dato una strada Per poter tirar fuori Quello che manco Sai di avere Oppure Tu avevi già Della stoffa Che hai solo potuto Tirare fuori Grazie ai social Ma nel mio caso Io ero Sono sempre stato Tuttora Hai capito? Cioè io sono un appassionato Di video Montaggio video Tecnologia per creare Fare video E io nella vita Volevo fare i video Montare i video E mi piace Fare i video Proprio cioè Per me è stare dentro Lo studio Registrare video Montare video Io quando monto i video Che mi piacciono Io sono Io esco fuori dal tempo E dallo spazio Sono nel mio ambiente Hai capito? E avevo talmente tanto Questa passione Ma non avevo i soldi Per permettermela Che l'unico strumento Che potevo usare Per farlo Era il telefonino Perché almeno C'era un programmino Che mi consentiva Di fare qualcosa Ma io non li avevo i soldi Per comprarmi programmi buoni Computer buoni E tutto il resto Io con quello Ho iniziato Perché mi piaceva Proprio Cioè io Volevo fare i video E mi divertivo A metterli online Tra l'altro Io all'inizio Ero anche molto timido Più Cioè adesso Non sono più timido Ma all'inizio No 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 Ma me lo ricordo bene Perché io Prima che tu cominciavi Ci siamo conosciuti Quindi me lo ricordo bene Hai capito? Cioè io Davanti alle telecamere Non ero come sono adesso Poi quella è arrivata Col tempo E alla fine Nel mio caso Diciamo che Mi ha dato L'opportunità Di poter sviluppare Ancora di più E trasformare in lavoro Quella che era Una mia passione Che era quella dei video Ovviamente Poi l'altra mia passione Era le sigarette elettroniche Unito l'utile al dilettevole Oh sai Dopo più di dieci anni Siamo qua Ma io invece Per me è stato molto diverso Perché Allora io non sono mai Stato timido Quello che invece ero E non si direbbe Mi direte voi Ero molto introverso Nel senso che Fino a dopo l'università Non me ne valuto nessuno Non parlavo con nessuno Camminavo sempre Con la testa bassa Detestando il mondo E vi dirò di più Dove abito? C'era gente nel mio quartiere Che poi ho saputo Diceva di me Che era un personaggio Un po' strano Da evitare Perché stavo sempre Mi vestivo tutto de nero Non guardavo mai In faccia la gente Perché proprio Non mi interessava Invece poi Ho cominciato a giocare A calcio balilla Voi mi direte Bella cazzata Invece C'è il Biardino Invece no Dove tra l'altro Sei anche il campione Ho girato l'Italia Ho girato Anche parte dell'Europa E addirittura Il calcio balilla Mi ha portato in televisione Perché sono stato a pressing Pensate Ho fatto una puntata Su Teleroma 56 Con Luciano Moggi Già Non potete capire Che costante personaggio Ho conosciuto E quindi da lì Ho cominciato A cambiare E nel rapportarmi Al pubblico Ho perso L'idea di essere Una persona molto introversa Quando poi Mi sono ritrovato Volente o non volente Non riraccontiamo la storia A girare i video Diciamo che Non parlavo così velocemente Parlavo a scatti Ero molto meno Preparato Sull'argomento Però la timidezza Non ce l'avevo E non è che ho cominciato Perché avevo stoffa Cioè sapevo fare questo Questo l'ho imparato man mano Però Già avevo un background Che mi portava A riuscire a parlare Con la gente Sostenendo un discorso Quindi Secondo me Noi veniamo da Mondi molto differenti Seppure ci hanno poi Portato alla stessa cosa Certo Con le dovute differenze Perché per te Questo è il lavoro Per me È diventato Un doppio lavoro Ma fondamentalmente Da qualche verso Ancora rimane un hobby Non proprio Ma è ancora un po' così Però ecco Secondo me Noi Matteo Ci ritroviamo anche Non lo so Un po' disagiati Vogliamo dire In questo Mondo post TikTok Che hai descritto Dove Ancora il linguaggio Per noi È difficile da affrontare Perché è rimasto Quello che era Qualche anno fa Ma sì Ma poi sai che cos'è Che comunque Noi ormai Siamo partiti Che eravamo Non che siamo vecchi Adesso Però eravamo Eravamo giovani TikTok È per i più giovani Di noi Quindi Io per dire Io sono ancora Un fan di Instagram A me Instagram Piace molto di più Di TikTok Perché Come piattaforma Mi piaceva Quando si poteva Pubblicare solo Fotografie E la uso Molto 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 di più Di TikTok E ritengo Che comunque Sai Anche un pochino L'età Vuoi o non vuoi La fai Capito Cioè Non è proprio Il nostro ambiente Al 100% TikTok Mettiamola così Quando invece Noi siamo venuti su Adesso io dico Noi ma parlo per me Poi tu mi puoi smentire Certo Però nel senso Noi siamo venuti su Con YouTube Broadcast Yourself Cioè io quando Mi sono buttato su YouTube Sapevo che YouTube Sarebbe stato il futuro Della televisione Ok Poi è arrivato Quello che è arrivato YouTube Da un certo punto di vista È diventato il futuro Della televisione Però da un altro punto di vista In realtà Adesso L'engagement più grande A livello di Come social C'è la TikTok E Instagram Gli ha dovuto Correre semplicemente Dietro Perché Una volta Andava il contenuto lungo Adesso invece Va il contenuto frenetico Perché Perché tu hai sempre più concorrenza Hai sempre meno tempo Per prendere L'attenzione delle persone La società è diventata Sempre più frenetica Quindi voglio sapere Tutto subito Mi rompo Stai Starti lì ascoltare Hai capito Nessuno legge più Tra l'altro No esatto Tra l'altro tu scrivi Cioè le descrizioni Non le legge più nessuno È una roba spaventosa Quindi deve essere Una roba Veramente mordi e fuggi Che dura da Natale A Santo Stefano E domani si sono dimenticati Totalmente Cosa è successo E di chi è Chi sei Che cosa hai detto Quale rifrego Perché c'è talmente Tanto Veramente Un surplus Di content creator Che adesso Non è più come una volta Una volta ti potevi Metter lì Potevi fare il tuo discorso La gente ti seguiva Ci potevi fare Dei ragionamenti Che per carità In alcuni frangenti In alcune piattaforme Ancora questa cosa Può succedere Ma mai Come una volta Tra l'altro Ma guarda Gli utilizzatori di facebook Scusami Gli utilizzatori di facebook Adesso Si sono invecchiati Ancora di più Ok E stanno sperimentando Uno degli effetti Della vecchiaia Che è quello che non te va bene Sai Quello che fanno gli altri Che rimani indietro Con il punto di vista Non rimani giovane Mettiamola così No E questo È il problema Dei boomer su facebook Perché facebook Tu lo vedrai Come lo vedo io Con i tuoi seguaci Hai una reazione Su facebook Una reazione su tiktok Una reazione su youtube Assolutamente sì Assolutamente sì Ma ti dirò di più È assolutamente vero Quello che dici Ma È vero Come è vero Che ci sono Degli espluati Differenza Rispetto a questo standard Che tu hai descritto Che è lo standard Però Faccio una citazione Per esempio L'altro giorno Ho pubblicato Un video su youtube No Ero convinto Che la gente Lo guardasse Perché era una cosa importante Ho detto Forse neanche lo pubblica altrove Non dico neanche che video è Non lo pubblica altrove Ma Undici dodici minuti Ma kickstart Li guarderà mai altrove Beh Vi dirò che Su youtube Quello che era Broadcast Yourself L'avranno guardato Quattro o cinquemila persone TikTok E qua è l'eccezione Che conferma la regola Quel video ha fatto Mezzo milione oggi In tre giorni Sì Questa è la prima eccezione La seconda eccezione E la cito perché hai parlato Di età L'hai mai visto te Un tiktoker Che c'ha una certa età Che è un professore Che c'ha un canale Che si chiama La fisica Che ci piace Quello con i capelli Tutti strani Esatto Quello è il perfetto esempio Dell'eccezione Una persona Che ha un altro lavoro Ma si è buttata in questa Adesso ha scritto dei libri E' diventato praticamente Famoso ovunque Però non porta Il contenuto Ma porta Un contenuto Che è riuscito In un'età Totalmente fuori luogo Rispetto a quella Che va A far appassionare Ragazzini Che lo seguono E capiscono Anche quello che dice Certo Quindi io Lì nutro Profonda ammirazione Ma lo citiamo Perché è esattamente L'eccezione Ad una regola Che è quella Che ha descritto Matteo Che è lo standard Quello esatto Quello è l'uno su cento Del quale si parlava prima Nel senso Che ci sono Io ho scoperto Anche tanti divulgatori Che mi piacciono Particolarmente Per dire A me L'ascesa di Barbero Sui social Mi è piaciuto un casino Io sono un fan di Barbero Mi piace in botto Seguo quasi tutto Quello che c'è Sui social di Barbero E veramente I social hanno portato Anche questo Grazie a Dio Quindi ragazzi Tanta roba Da quel punto di vista È chiaro che C'è da farsi L'ultima domanda Cioè più che altro Più che la domanda C'è da fare L'ultima osservazione Per quanto mi riguarda Su questo argomento Che è Effettivamente È vero Che hanno dato Spazio A tutti Di venire avanti E c'è tanta Però Il lato positivo Che io Sono sempre Propenso A osservare Rispetto Al lato negativo È che Il fatto Che ci sia Tutta questa roba Che non ci piace Ed è normale Alcune cose Che ci piacciono Che sono Migliori di altre È normale Anche questo Ma il fatto Che ci sia Tutta quell'immondizia In mezzo E bisogna un po' Cercare Per trovare il diamante È anche un indice Di libertà Di espressione Capito Che però Sappiamo benissimo Che non è proprio A 360 gradi Su ogni tematica No Infatti Quello Però Almeno Non è Bravo Non è a 360 gradi Ma Quello che voglio dire Io Che ancora Per fortuna C'è Libertà di espressione Non su tutto Perché siamo Anche qui Potremmo aprire L'argomento Censure E qui ragazzi Diventa devastante Perché qui diventa Allora perché lasci Quella libertà Di espressione Non lasci La libertà Di espressione Nostra Quando invece Avremo qualcosa Da dire Guarda Su quello che hai detto Faccio uno spoiler Più avanti Faremo una puntata Sul politicamente corretto Dove entrerà anche La censura E parleremo di questo Sì Perché lì ragazzi Il discorso Molto importante Secondo me È che comunque Chi fa un determinato Tipo di censura Chi fa tutte le censure Qualsiasi censore Cioè tu la censura La fai Perché stai decidendo Che cosa deve entrare Nella testa delle persone Fondamentalmente Né più Né meno Cioè la censura È un meccanismo Di controllo Del prossimo Punto Tu decidi Di che cosa Si può parlare O di che cosa Non si può parlare Di conseguenza Decidi Quale idea Può essere messa All'interno Della testa Di una persona E quale idea Non può essere messa All'interno Della testa Di una persona E non è altro Che un meccanismo Di controllo Della società Pura e semplice È così Non c'è niente da fare Ok Ma sì Ma poi tra l'altro Ti dirò di più Che dal punto di vista Della censura C'è anche un bel modo Di nasconderla Perché adesso Non so E poi Mi fermo Perché questo Veramente aprirebbe Un ragionamento Veramente troppo vasto Voi non so Se vi siete mai accorti Che la censura Che Matteo Ha descritto Perfettamente Spesso Viene nascosta Dietro Il Non se ne può Parlare Ma nessuno Vi dirà mai direttamente Di quello Non se ne può Parlare Però se io un giorno Mi sveglio Dico una cosa Qualunque Non la prendete Come una filosofia De vita La dico tanto Per dire E dico La famiglia Qualcuno Si permette Di venirmi a fare Il processo All'intenzione E mi viene A commentare Ah Hai tirato fuori Il patriarcato La famiglia normale Allora è l'identità Di genere La libertà Dove sta Io me sento gatto No Devono essere sei mariti No Quello è tre mogli Cioè Scateni un po' di ferio Solo dicendo una cosa Perché qualcuno Viene a fare Il processo All'intenzione Su quello che tu Hai detto Magari manco Volevi dire Magari poi è quello Che ha capito lui Non è quello Che volevi dire Assolutamente Sì Assolutamente sì Io che non ho Veramente un costato Contro nessuno E tutto Contro chiunque Perché so un po' così A volte magari detesto Delle categorie Che il giorno dopo amo E va bene Certo Magari un giorno Dico una cosa Perché Mi voglio sentire Libero Ti svegliamme E invece poi Mi trovo dall'altra parte Qualcuno che cambia Il cartone animato Del Biancaneve Perché ierotter E c'è Cioè Questa è censura E lo è Certo E viene fatta passare Per Un adeguamento Al Dovrebbe andare bene tutto Ma non è così È tutto l'opposto Qui poi entriamo Nel politicamente corretto Cioè di base ragazzi Io sono un estremamente liberale Finché non mi rompi E finché il tuo atteggiamento Non nuoce clamorosamente Alla società all'interno Della quale io vivo Io non ti romperò mai È vero Punto Questo è il mio principio Che va oltre La politica Va oltre qualsiasi cosa Io sono apolitico Nella politica Ho smesso di crederci Tanto tempo fa Non vedo più Nella politica Una soluzione I problemi Dell'essere umano Almeno in Italia Avete capito E in svariate parti Del mondo Però La verità È esattamente Dal mio punto di vista La verità È esattamente questa Cioè Siamo proprio Arrivati A questo livello Cioè Uno Finché Non mi rompi le balle Fino a che non sei dannoso Al prossimo E non sei dannoso A te stesso Io ma guarda Ma se sei dannoso A te stesso Puoi anche essere dannoso A te stesso Finché il danno a te stesso Inizia ad essere un danno Per gli altri Perché comunque Uno col suo corpo Ci può fare quel cacchio Che gli pare il suo Ah beh Non c'è dubbio Quindi Nel senso Però dal momento in cui Quella cosa Inizia a ledere me O a ledere la società All'interno del quale io vivo Io lì Ho la libertà Di romperti le balle Perché stai entrando Anche all'interno Della mia Di libertà Però Lasciato quello Uno può fare Quello che gli pare Mi interessa È il genere Cioè Ragazzi Uno faccia quello che vuole Io sono amico di tutti Vedrai ma te Che qualcuno Troverà il sistema Come con me Ma pure con te Ormai fanno A spada tratta Troverai il modo Di strumentalizzare Il suo ragionamento Che penso più Libertario e liberale Non esiste Come se noi Nelle parole Avessi fatto passare Chissà quale Dietrologia Un ragionamento Che poi viene idealizzato Con le parti politiche Perché la gente è stupida Fa dei minestroni Senza senso Vabbè Penso che Comunque quello che doveva arrivare L'abbiamo detto Alla fine Assolutamente Ma poi c'è sempre il discorso Che comunque Io sono responsabile Di quello che dico E di quello che voglio dire Se quello che dico E quello che voglio dire È detto in italiano corretto Che è comprensibile Canonicamente Non sono responsabile Di quello che hai capito te Se non arrivi a capire Cosa sto dicendo Perché hai delle evidenti Lacune Nel capire gli altri Qui potremmo entrare Nell'analfabetismo funzionale Che è il male Che imperversa Sui social Fondamentalmente Purtroppo sì Ma vedi Magari ve ne parleremo Un'altra volta L'analfabetismo De cui parli Tra l'altro Lo giustifico Se parliamo dei pischelli Il problema è che Lì subentrano gli adulti E quello è un grave problema Sì sì Assolutamente 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 Va bene Oh E scherzante ridendo Se sono fatte 11 Bravo Quindi io direi ragazzi Che poi La potete andare Piante Perché non andare a dormire Avete rotto il Fossai Fondamentalmente Ragazzi Allora Diciamo che Della vostra opinione E del rispondere alle vostre domande Stasera non c'è fotte Proprio un costai Quindi non risponderemo A nessuno A prescindere Da come la pensiate E considerate pure Che quello che diciamo noi È nella ragione pura Non so se qualcuno Si ricorda la critica La ragione pura E la critica La ragione pratica In ambito filosofico Ecco Significa che a noi Ci frega un costai Era quello che voleva dire Quell'ambito filosofico lì E detto questo Mio caro Santone Vogliamo tirare le sorti Di questa prima puntata Con i suoi deliri E i suoi problemi Di servi del potere Io volevo innanzitutto Sottolineare il fatto Che abbiamo aperto Questa diretta Questa puntata Zero pilota Con una perla magica Che rimarrà E è destinata a fare storia Assolutamente Sì assolutamente Prima di tutto Quindi direi che comunque Siamo partiti Poi con il piede sbagliato E era il piede Era Era il piede giusto Quindi Questo l'abbiamo realizzato In secondo luogo Abbiamo visto Che comunque La cosa Può avere un seguito Perché comunque Ormai è anche in ora Dove la gente Se vuole andare a dormire Ma gli spettatori Ci sono stati Abbiamo avuto La riconferma Che siamo in grado Di parlare Del nulla cosmico Per un tempo Indeterminato Fino a che Non vogliamo andare a dormire Anche perché poi Se analizzi Non abbiamo parlato Bravo Esattamente così Esattamente così Ma infatti è la retorica Cioè Cosa ho detto Io all'inizio Vedi che Come è iniziata Si conclude Siamo Dei maestri di retorica Ragazzi Dei servi del potere Ricordiamo Assolutamente Perché il servo di potere Deve essere un gran maestro Della retorica Perché sennò Come fa A metterlo nel colucco Di continuo Esatto Quindi ragazzi Faccio io un appello Prima di passare La parola al buon gallegati Che tirerà Le somme Farà una degna chiusura A questo Fantastico programma E io vorrei ringraziare Tutti coloro Che hanno guardato Darvi appuntamento Non ve lo dico Lo dirà Il santone Dopo di me Ricordatevi Che se noi Siamo servi del potere In qualche modo Di altri poteri Ma lo siete pure voi Quindi fate poco Le testine di Giudicare il prossimo Ma vi dico anche Contestualmente Giudicateci Perché Ce lo meritiamo Insulti Vanno bene Ma E noi vi potremmo Giudicare a nostra volta Scusa Noi potremmo giudicare Chiunque Perché dall'alto Della nostra ignoranza Siamo in grado Di giudicare Chiunque Tra l'altro Sempre Autoreferenziati Sempre servi del votere Pieni di noi stessi Tra l'altro Siamo assolutamente I numeri uno E voi non siete un Psycho Cioè questa è la verità Assolutamente Lo diceva il Marchese Ti pare che noi Non ci accodiamo A questa filosofia di vita Esatto E comunque Anche con Marchese Ne io Ne Danielino Ci tiriamo indietro Con questa bomba Assolutamente Che 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 Scusa Fammi fare una chiosa A quello che hai appena detto Perché Non so Se a Forlì E a Roma Il dialetto Esprime cose diverse Cosa intendi Per Marchese È proprio Perfetto Quindi diciamo La stessa cosa Allora ragazzi Non ci tiriamo indietro Non ci tiriamo indietro Oddio Non lo so Io ci devo Io ci devo pensare Ma no ma dai Butta la butta Diti no Diti no Diti no 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 Ci devo pensare No ragazzi Sul Marchese Ci devo pensare Che schifo Fatemici riflette un attimo Non mi fate Dintesi così Anche lì Dipende tutto Dalla stagionatura Che cazzo Che schifo Mi stanno a venire in mente Delle cose Abominevoli No vabbè Hai detto una delle cose Peggiori L'ho stunnato L'ho stunnato L'ho stunnato Hai detto una delle cose Peggiori Della tua vita Santone Mannaggia Il grande marinaio Navica anche nel Mar Rosso Ma che cazzo Allora Danielino Si dissocia Da quello che ha appena sentito Ma mi dissocio Mi dissocio Io Io sul Marchese Ci devo pensare Ci devo Devo riflette Non dico di no Però ci devo riflette Ci devo riflette Spaventoso Voglio riflettere su questo Vai Bene ragazzi Quindi Il Grillo vi saluta Perché il Marchese Ha già dato Ci vediamo ovviamente Alla prossima puntata Che sarà esattamente Esattamente Il giorno del Marchese Esatto Sarà giovedì prossimo 9 maggio Alle 21 e 30 Sul mio canale Twitch Senza Marchese Esatto ragazzi Senza Marchese Almeno da parte di Danielino Poi non so se ci sarà un Marchese Che mi verrà a trovare Quindi ragazzi Io vi ringrazio Io vi ringrazio Vi ringrazio Vi ringrazio anche Danielino Vi ringrazio Vi ringrazio Vi servite il potere Potete solo E ci vediamo Alla prossima Sul canale di Danielino Non mancate La fisica quantistica La mitologia greca La matematica La degustazione di vini rossi scadenti La storia dell'uomo L'ingegneria Il latte ad alta digeribilità L'odontoiatria Le scienze più tecniche La chimica farmaceutica Il cibo scaduto La filosofia La scuola materna La criminologia L'antropologia Il patriarcato La geografia L'ingegneria nucleare Il reflusso La giurisprudenza È colpa degli influencer L'economia aziendale L'unni incarnite La scala dal potere Il servilismo dell'uomo L'impedosessuale La ridettura La biologia I peli nel naso La neuropsichiatria La veterinaria Ti è buono Che il virus Da spianto È viceriale bro Servi del potere Il podcast